Oggi facciamo la frittata di zucchine e ti spiego come girarla senza romperla. Per prima cosa grattugia le zucchine. Cuoci le zucchine grattugiate in padella con un po' di sale e pepe per una decina di minuti. Rompi le uova in una ciotola, aggiungi sale, pepe e inizi a sbatterle. Aggiungi un po' di parmigiano e inglobala le uova. Lascia intiepidire le zucchine e aggiungile alle uova. Ungi la padella con un filo d'olio e accendi il fornello al massimo. Versa le uova nella padella, copri con il coperchio e abbassa il fornello al minimo. Cuoci le uova sempre con il fornello al minimo finché la parte superiore della frittata non si sarà rappresa. Spuoti un po' la padella per statare la frittata dei gordi e copri con il coperchio. Gira quindi la padella tenendo sempre il coperchio ben aderente. Fai quindi scivolare la frittata in padella per osolare l'altro lato. Cuoci ancora per qualche minuto e infine servi la frittata di zucchine. Buong appetito!